Il segno è proprio l'umiltà di Dio. L'umiltà di Dio portata all'estremo. È l'amore con cui quella notte Egli ha assunto la nostra fragilità, la nostra sofferenza, le nostre angosce, i nostri desideri e i nostri limiti. Il messaggio che tutti aspettavano, quello che tutti cercavano nel profondo della propria anima, non è altro che la tenerezza di Dio. Dio che ci guarda con occhi colmi di affetto, che accetta la nostra miseria. Dio innamorato della nostra piccolezza. Nella notte benedetta, illuminata dalla luce di Gesù, il bambino sole, il Papa spiega la profezia di Isaia, il segno annunciato dagli angeli e i pastori, la gente semplice e disposta ad accogliere il dono del cielo. E Francesco ricorda la pazienza di Dio che aveva riposto le attese nell'uomo fatto a sua immagine, una pazienza più forte delle tenebre e della corruzione che per noi è difficile da capire. E il bambino interroga ogni volta chi lo guarda, invita a pensare, afferma il Papa, se abbiamo il coraggio di accogliere con tenerezza i problemi e le situazioni difficili. Quanto bisogno di tenerezza soggiunge a oggi il mondo? La risposta del cristiano non può essere diversa da quella che Dio dà alla nostra piccolezza. La vita infatti va affrontata con bontà, con mansuetudine, con prossimità, con l'apertura del cuore di fronte a quel bambino che nasce per ognuno di noi.